Torna a sorridere la polisportiva Santa Maria che spugne la Giannatasio di Prepezano di Giffoni Secasali con un secco 3-0. Troppo superiore la formazione allenata da Pirozia con lo spetto di un nonfaiano impelagato in piena zona play-out. I tre punti consentono alla polisportiva di mantenere salda la quinta posizione e di risocchiare qualche punto dalle squadre che la precedono. La gara inizia senza grandi sussulti, complice anche l'avvento che soffierà per tutta la partita. Al primo affondo importante, al decimo minuto, la formazione cilentana passa in vantaggio. Kirill lo batte un calcio piazzato, Margiotta controlla e serve al centro per la corrente al tiri che deposita alle spalle di Marco Senatore per il vantaggio giallorosso. La reazione del Faiano è affidata a due tiri fuori misura al quindicesimo e al diciassettesimo di Costabile e di Pellegrino. L'occasione più gotta della match per i padroni di casa capita al ventitresimo sui piedi di Erra che da ottima posizione calcia alto. La polisportiva, dal suo canto, si difende con ordine e non rischia nulla fino allo scadere del primo tempo, quando Itri mura una conclusione a botta sicura di consiglio. Nella ripresa i giallorossi cercano di chiudere subito il match. Dopo qualche minuto di pausa forzata perché i calciatori di casa vorrebbero la sospensione del match a causa del vento, si riprende a giocare e la polisportiva trova il raddoppio al quattordicesimo con Margiotta che servito da un assist al bacio di Fernando con una semirovesciata segna un gol spettacolare e strappa gli applausi della tribuna. Per il Faiano, con due gol da recuperare, si fa ancora più dura quando Merola, da pochi minuti subentrato a Costabile, colpisce a gioco fermo Itri sotto gli occhi della direttore di gara che gli estrae il cartellino rosso. Nel frattempo, girandola di sostituzioni per entrambi gli allenatori. La gara quindi si spegne man mano con la polisportiva che ha il doppio vantaggio dalla sua parte. Al trentottesimo però potrebbe arrivare anche il gol di Fernando che non riesce a prendere lo specchio della porta sul filtrante di Margiotta. Occasionissima in pieno recupero anche per Pasquale Manzo che ruba il pallone a Imperiale e poi tutto solo calcia fuori. Proprio allo scadere arriva però la firma dello 0-3 con Vincenzo Romano che servito da Manzo supera Marco Senatore. Tre punti pesanti e torna il sorriso in casa polisportiva in vista della trasferta contro il Castella San Giorgio in programma domenica. Grazie a tutti.